Musica Ripeto, hanno preso l'edificio! Mandate rinforzi! Servono rinforzi! Quella ti sta benissimo! Ti mette in risalto gli occhi! Tu dici? Se ne compri due, paghi la metà! Wow! Ancora tu? È tuo il negozio? No, è di mio papà! Ah, quant'è? 800 rupie, grazie! 800 rupie? Ok, ok, per te 5,50! Incredibile! Allora, tuo padre ti lascia spesso da sola? No, è andato a combattere i ribelli! L'ha obbligato l'esercito indiano, eh? No, è partito volontario! Davvero? Beh... Se fosse stato per me Non ti avrei lasciato qui da sola Ok Queste sono 300 e... Nuova offerta 400 rupie Più Ganesh Te lo sconsiglio È rotto, vedi? Non conosci la storia Ganesh affrontò Parashurama Mentre era a guardia della porta del padre Sì, per difendere l'onore del padre, sciva E restò con la zanna mozzata Per la lotta Interessante Comunque Non è in vendita Giusto in tempo Ok, senti 600 rupie Tieni il resto Ehi, aspetta! Ehi! Ti serve una guida Scusa Che c'è? Senza offesa Non vai male con i borseggi Ma rivolgo il mio Ganesh Grazie Va bene Complimenti per l'impegno Nessuno può attraversare il ponte È troppo pericoloso Senti, piccola Ci siamo divertite Ma adesso devi andartene Ho un letto in più in negozio 300 rupie È il prezzo migliore di tutta l'India Ok No, grazie Devo salire sul camion Pessima idea I ribelli Sono gente cattiva Ascolta Devo aiutare un amico Ok? Senti qua Quando torno Ti offro una pizza Ok? Ok Bene Merda Diavolo Signore, signore Oddio Ho perso il mio papà Stavo mangiando un gelato Non lo trovo più Non posso tornare a casa senza di lui Tutto ok, tutto ok Cosa succede? Era proprio lì Ci piedono Un attimo Eccolo Eccolo Un attimo Un attimo Silenzio Poveri Christi Ok Porta rossa È questo Ehi Aspetta Quanta fretta Chi mi dice che non vendi merce di contrabbando? Braccia su Ehi È pericoloso uscire a quest'ora Ehi Dove abiti? Ehi, sei sorda? Rispondigli Ti ho fatto una domanda Dove abiti? Alla rasta No, adesso non posso E invece puoi? Sì, signore Ti aspetto dentro Ricevuto Tu, con me La mitragliatrice Signore, riguardo a lei? Lasciala passare L'hai sentito Su, muoviti Un'altra settimana Pink lotus Che significa? L'hai sentito L'hai sentito? Oh L'hai sentito? Niente L'hai sentito? Oh L'hai sentito? C'erano almeno due versaggi, il magazzino e l'altro. Sei nel posto sbagliato, donna. Che accidenti fai? Dovresti essere professionale. Oh, dai, rilassati. Vivrai più a lungo. Rilassati? Sono settimane che inseguo Asav. Quell'uomo è del tutto imprevedibile. È solo un guerrafondaio senza una guerra. No, tu non lo conosci come me. Cambia posizione e comportamenti ogni ora. Per noi sarebbe folle correre rischi inuti. Noi? Mettiamo in chiaro una cosa, allora. Qui comando io. Se vuoi la tua parte, noi seguiremo le mie regole. Cosa hai deciso? È quello con la barba. Così mi piaci. Carino. Siamo gli psicopatici. Nessuno è perfetto. E il campo base? Ultimo piano, il balcone. Va bene. Su, andiamo. È magnifico. Cercatela! È vicino! Sperta, meglio andate! Nadine Ross. Che piacevole sorpresa. Ah, ah, piano, fratelli. Questa tigre graffia. Asav. Oh, tutti questi anni. Ma tu non sei invecchiata di un giorno? Troppo gentile. Cerchi lavoro? So che la shoreline ha cambiato gestione. Incidente di percorso. Nulla di risolvibile. Ma certo, certo. Peccato. A me servirebbe una del tuo calibro. Perché sei qui? Questo non è il tuo ramo di competenza. È proprio una bella collezione, devo dire. Clau Frazer. Collezione antiquariato. Una ladra? Lavori per una ladra? Signore, abbiamo un problema. Che c'è? Hanno fatto fuori l'intera squadra. Passo. Arrivo subito. Il disco. Oh, giusto. Riguardo a quello. All'inizio ti avevo scambiato per un... semplice... ribelle. Oh. Ma poi sei riuscito a trovare l'impero Oissala. Davvero niente male. Ma il loro grande tesoro, la zanna di Ganesh, non è semplice da scovare. Che stai facendo? Dopo tre invasioni persiane, tre diverse guerre, dopo tutti questi anni, nessuno l'ha trovata. Ci siamo quasi. Siete bloccati. E la vostra unica speranza è di capire quanto meno dove andare a cercarla e affidarsi a qualcuno che vi possa aiutare a decifrare questo manufatto. Qualcuno con una profonda conoscenza della società Oissala. Esatto. Un'esperta della loro storia e cultura. La mia parcella è modesta. Una parassita che sa solo sfruttare la nostra lotta per un suo tornaconto personale. Questo era un no? Sembrava un no? Hai coraggio. Lo apprezzo. Ma non mi servono altri sedicenti esperti. Uccidetele e gettatele nel fiume. Non serve. Ci buttiamo da sole. Prendetene! Mi spieghi che volevi fare? Rozzo, ma efficace. Volevi salvarti e sacrificarmi? Sai, si chiama improvvisare. Ora chi è quella poco professionale? Che diavolo vorresti dire? Ti hai permesso a Dasab di sorprenderci. Inizio a chiedermi se vale davvero il 50%. Lo sapevo. Volevi davvero farmi fuori. Il lupo perde il pelo, ma non è il fizio. Tu non sai niente su di me. Ti avviso. L'ultima persona che mi ha tradito è morta. Ecco il fiume. Sì. Meglio che il tuo amico sia là. Merda! Ora è meglio andare! Già Per ora è arrivata! «Sì?» Come va là fuori? Regolare. Arriveremo tra circa un'ora. Bene. La zanna di Ganesh. Ora capisco l'attacco alla capitale degli Oisala. Guarda che roba. Ce l'hai fatta? Non ancora. Ci servirà tutta la fortuna possibile. Pensi ancora a quella specie di esperto di Asav? Stai tranquilla. Se Asav non è già sui gatti, ci sarà alle Calcagna. E in più lui ha armi, veicoli e un sacco di uomini. Come ho detto, stai tranquilla. Sembra una specie di chiave. Forse. Vediamo... Ok. Il tridente era l'arma di Ganesh. Poi arco e freccia. Quella di Parashurama. E... L'ascia. Era un dono di Shiva. La grande battaglia. Cosa? La battaglia in cui Ganesh perse la zanna. Se noi troviamo questi simboli... Troviamo la zanna. Niente male, Fraser. Sì, beh... Ringrazia mio padre. La mitologia induista era il suo pane. Segue le sue orme. Sarà orgoglioso. Il sole è quasi sorto. Vado a prepararmi. Bel lavoro. Grazie. Manca poco. Ne hai fatta di strada per una semplice ripicca. È una questione di principio, ok? Bel panorama. E guarda. Che strano. Scusa se ho dubitato di te, Klo. E voi sala? Oh, e sala. Non è una struttura moderna, quindi siamo sulla strada giusta. Che c'è? Non mi piace. A te non piace niente? Abbiamo fatto cento chilometri senza una traccia di Esav. Pensa positivo. Forse li abbiamo anticipati. Ne dubito. Io cerco la zanna. Asave tu. D'accordo. Le capitali antiche. Che cosa abbiamo? Alebidu e Belur. Pensavo fossero Ganesh e Shiva. Vedo che sei stata attenta. Ganesh era il guardiano di Alebidu, la più recente delle capitali Oysala. Shiva il guardiano della capitale precedente, Belur. Le incisioni sono magnifiche, ma non sembrano mura fortificate. Il rione degli scultori, da quel che vedo. Siamo ancora in periferia. Non pensavo fossi un'archeologa. Quello era mio padre, veramente. Io sono solo una ladra, ricordi? La nostra auto ha un verricello? Sembra di sielo. Ottimo. Allora ci penserà lui a queste porte. Vuoi buttarle giù con la forza? L'idea è quella. Se non hai la dinamite. Qui comandante. Asaf. Ottima vista. Merda. Si è portato dietro un battaglione. E altri potrebbero essere già dentro. Ehi, sono lusingata che ci prenda tanto sul serio. Dobbiamo entrare in quella porta. Ok, con calma. Prima pensiamo a questi scignoni. Hai un piano? Sì. Certo. Questo ingranaggio e vediamo che succede. Non è rischioso. Hai notato che la vita degli avventurieri è costellata di rischi, vero? Vale anche per i mercenari. Ma se tolgo la sicura a una granata, io so cosa succederà. Che vita monotona la tua. L'hai sentito? E tu lo senti? Mh. Cosa? Guarda qua. Porca vacca. C'è un enorme rilievo intagliato sul fianco della montagna. E tu credevi che saremmo morte solo girando una ruota? Vantaggi del lavorare con la figlia di un archeologo. Avrei avuto una bella infanzia, eh? A tratti, diciamo. Ho imparato molto. L'impero Oisala era la sua specialità. Chi ha dedicato la sua vita. Mentre io, quando cerco tesori, penso solo al guadagno. Ah, sicuro. Se la paga non è buona, io non corro rischi. Non immaginavo. Come gestire un esercito. Una grossa responsabilità. È solo istinto. Era l'armata di mio padre. Io ho preso il suo posto. Azienda di famiglia. Mhm. E l'ho quasi distrutta. Ma lo saprai. Mi pare che tu conosca bene i fratelli Drake. Sì. Beh, ne parliamo un'altra volta. E ora? Dove andiamo? C'è il forte con il tre dente sulle cascate. E poi il forte con l'ascia sulla montagna. Forse avrei dovuto chiedere... Ok. Apriamo l'acqua. No, aspetta. Stavolta potrebbe essere diverso. Potrebbe uscire del fuoco. Mi stai sfottendo? Sì, ti sto sfottendo. Ecco fatto. Cosa? A dire il vero che si trova nel cuore. Un'altra cascata. Già. E siamo due su tre. Gli Oysa l'hanno fatto di tutto per nascondere la zanna. Beh, la zanna era il vero simbolo del dominio Oysala, della loro ricchezza e della potenza del regno. Un trofeo ideale per i persiani. Già. Mio padre ha sempre pensato che la zanna fosse addirittura qualcosa di più. Aspetta. Anche tuo padre cercava la zanna. Per lui era un'ossessione. Passava giorno e notte a studiare i documenti. Ha sperperato patrimoni in spedizioni del tutto inutili. Non è certo il primo. E com'è finita? Non lo so. Mando via me e mia madre, disse che non eravamo più al sicuro. E noi partimmo per l'Australia. E adesso eccomi qui. Ai confini di Alebidou. Un po'... ironico. E l'ultimo è sperduto sopra le cascate. Quello col tre dente. Chiudiamo questa questione. E va bene. Marta! Visto? Ho detto che era pericoloso. Fatta male. Solo la dignità. Ecco fatto. Ecco che arriva l'acqua. E siamo in tre. Sai, te la cavi bene a cacciare tesori? Io imparo in fretta. Ho una domanda. Una come te potrebbe fare di tutto nella vita. Perché vuoi riprenderti la shoreline? Sei serio? Mh. Il mio socio mi aizza contro le truppe. Il mio tenente sparisce con la taglia. Nathan e Samuel Drake la passano liscia e mi chiedi perché rivolgo la shoreline? Sì. Come andavo io? Eppure ho perso tutto. Che diavolo è quel coso con cui giocherelli? È il mio antistress. È apparso nella posta non appena arrivamo in Australia. Ok, diamoci una mossa. Hazard non deve superare. È magnifico. Per te quanto ci vuole incidere una cosa del genere? Anni. Decenni forse. Gli Oisara erano portati per i lavori in pietra. E per la guerra, sembra. Sì, anche. Li avranno costruiti per commemorare le loro vittorie sui persiani. Hanno lottato estremamente. Oh, sì? Ma non per molto. La loro rovina è la nostra fortuna, giusto? Quell'incisione mi affamiliare. Quell'incisione corrisponde perfettamente a questo disco. E cosa significa? Non lo so ancora. Ma, secondo me, dovremmo provare con quello. Si comincia? Cerca di non romperlo. Si lanciate. Ma che diavolo? Ora cominciamo a ragionare. Questa non me l'aspettavo. Pronta? Sì. Mi sto... godendo il momento. Benvenuta nel cuore di Ale Bidu. L'ultima sede è nota della tzanna di Ganesh. Spettacolare. Cosa? Non ti sembra che ci sia una specie di diga tra le due statue di Ganesh? La cascata l'ora è rosa. E quindi come entriamo? Guarda la corona. Non è l'erosione. È vero. Forse era una torre di guardia? I persiani sono entrati da lì. È da una vita che sento parlare di questo posto. È incredibile vedermelo davanti. Scatta una foto. Mandala a tuo padre. Bella idea. Cosa? È troppo vecchio per usare i computer. E allora scattala. La vedrà di persona. No, è che... Ormai sono in ritardo di qualche decade. Senti, io... Oh, no, ti prego, no. Tranquilla. Che dici? Andiamo ad Alibidu? Ja. Andiamo. E la tigre? Ci siamo? Incrociamo le dita. Questo era previsto? Non lo so. Non farci ammazzare. Non sei divertente. Pronta? Attenta. Magnifico. Che sciva mi fulmini. Non stavo per dirlo io. Fraser! Rossa! Ah, no. No, va bene. Penso che andrà tutto bene. Bene? Dove diavolo è la zanna? Non lo so. Tutto questo non ha alcun senso. Ja, ce l'ha. Io e Sala vogliono farci girare a vuoto. Forse hai ragione. Ottimo. No, dammi a sentire. Ganesha è il simbolo di... Alibidu. E Shiva era il simbolo di... Belù. Che poi era l'antica... Capitale. Esatto. Forse il re fece costruire questa città sontuosa per offrire ai persiani un magnifico bersaglio. E la capitale antica fu dimenticata. Quindi questa città era un'esca. E se la fecero saccheggiare per proteggere Belur? E il tesoro. Potrei scommettere che la zanna non è mai stata qui. Mai. E dov'è Belur? Oh, merda. Questo invece non era affatto previsto. Ce l'è là! Afferra il bordo ora! Bede! Sta bene! Vai! Stai bene? Com'è che siamo ancora bene? Puro talento. E un pizzico di fortuna. Ehi! Bel lavoro, socio. Bel lavoro. Qua la mano. Gesù! E questo cos'era? Dovresti vergognarti in eterno, sai? Ehi! Correggimi se sbaglio, ma... E qui non c'era un'enorme cascata? Sì, c'era. E quello che diavolo è? Un acquedotto. È attraversato dall'acqua delle cascate. Fantastico. È da merito nostro, vero? E qui non c'era un'enorme cascata. Ah, beh... Tecnicamente è mio. Stranzetta. Senti... Scusa se prima sono stata poco delicata. Ah. Tranquilla. Sai, voi due sareste andati parecchio d'accordo. Anche lui era un bastardo con la testa dura. Senti, è difficile che nessuno si sia accorto di nulla. Dovremmo andarcene. Hai ragione. Seguimi, ok? Sì. Ecco l'acquedotto. Vieni qui. C'è una penditura. L'occhio di Shiva. Notevole. Il mio uomo l'ha cercato per una settimana. Beh, forse hai... Ha soldato l'esperto sbagliato. Può darsi. Sai che... Un poeta Oysel a tempo fa scrisse di un giovane re che cedette alla pietà. E poi... Sospese i nostri riti. Ma gli antichi sovrani sapevano bene che il progresso richiede... Sacrifici. Dici questo ai tuoi uomini? D'accordo. Bene. In tempo di guerra, questi acquedotti si tingevano di rosso nella capitale. Chiunque si rifiutasse di combattere, veniva usato per ispirare l'ardore dei guerrieri. devi prima generare il caos. Aspetta! Io alimenterò la mia guerra civile eradicando l'ignobile stirpe del giovane re. a cominciare da te. Presi! Tagliele! Figlio di puttana! Aggrappati! Per qualunque cosa! Presi! Frazer Frazer, ehi Stai bene? Sì Credo di sì Ehi, fai piano Sei svenuta quasi mezz'ora Come mezz'ora? Oh, merda Merda, Asaf ha preso il disco Aspetta un momento Dobbiamo andare subito Ehi, rilassati, ok? Pensi di farcela? Sì, ho passato delle notti peggiori Non voglio sapere È bello tu sia qui Ora... Ora siete in due, vero? Sì Ok Andiamo a prendere il disco E delle armi E delle armi In realtà quella vacca è sakera Quella è Nandi Il custode di Shiva Quello deve essere l'ingresso della vecchia capitale Gli acquedotti l'avranno attivato Già Ah, merda Asava sta già per entrare Allora è il caso di raggiungerlo Dai No In che senso no? Sam Drake Il suo esperto è Sam Drake Già Pezzo di... Sai che c'è? Forse è meglio così Prenderò due piccioni con una fava Nadine Cosa? Cosa? Sam, è più o meno il motivo per cui siamo qui No, non puoi dire sul serio C'era un accordo Sam è andato in avanscoperta Per indagare sul disco Ma poi è scomparso E io non potevo Sapevi del mio passato con Sam E mi hai trascinata qui Eri la scelta più ovvia Per il tuo rapporto No Sfogati, non trattererti No, l'ho fatto Sai una cosa, Nadine Questo non cambia niente Avrai comunque la tua fetta Sì Ho forse trovata la zanna Tu e Sam mi taglierete fuori No, dai Non è così che lavorano È esattamente così Che lavorano quelli come te E pensare che io mi fidavo Ascolta Ti avrei detto tutto riguardo a Sam Te lo giuro Stavo solo aspettando il momento giusto per... D'accordo Un po' di esercizio mi farà bene Merda Ecco fatto Prego comunque Mi hai mentito spudoratamente Non ti ho mentito Ho solo tralasciato la parte su Sam Incredibile Senti, Asava è in vantaggio e noi dobbiamo correre Noi? Oh, merda Senti, io... Dimmi tutto Ok Sarò del tutto sincera Ho bisogno di te Di pensarci un po' prima? E tu hai bisogno di me per la zanna Lo so Ho sbagliato D'accordo? Queste le chiameresti scusi Se possono servire a trattenerti Sì, certo Senti, qui abbiamo entrambe qualcosa da perdere Non è così? Perché sia chiaro La mia priorità è la zanna Non sempre i che E di certo non tu E va bene Senti, io... Non sono portata per i rapporti interpersonali Sei un idiota egoista Già È vero Sono un idiota egoista Almeno lo ammetti Beh Sentito, papà In fondo ho preso qualcosa da te Che è successo con tuo padre? Era il tipo di persona che non si arrende Il Ministero della Cultura Si offrì di finanziare La sua ennesima spedizione Perché quella volta, diceva lui Aveva trovato qualcosa di grosso Trovava sempre qualcosa di grosso Ma i bandetti assalirono il suo campo E... Le autorità locali l'hanno trovato tempo dopo E questo coso è tutto ciò che mi resta di lui Mi dispiace Oh, no Aveva fatto la sua scelta Quindi? Senti, Fraser Adesso... Che sta facendo? Caricando, credo Digni di fermarsi Perché? Parlo elefantese? Guarda là Ecco perché era così agitata Riguardo alla storia di Simon Senti, ti capisco Ok? Anch'io ho le mie erogne da risolvere Non lasciamoci distrarre dalle idiozie, ok? Ok Ci sta Ciao, Belur Non capita tutti i giorni di trovare una città nascosta Che nessun altro vede da secoli Nessuno tranne Asav Nessuno tranne Asav E i suoi uomini? E i suoi uomini? Pronta? Hai rovinato la poesia del momento Lo sai, vero? Sono pronta E come entriamo? Non lo so Ci sono dei Incredibile È senza dubbio un altare Sembra che i re avessero a cuore la loro gente Non stavano solo proteggendo la zanna Gli storici l'hanno sempre considerata un simbolo di potere e dominio Ma Credo che si sbagliassero Era un simbolo del loro popolo Della loro cultura Era un simbolo degli oisala E questi cosa sono? E? 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 Mio padre è stato qui Qualcosa di grosso davvero Perché quell'idiota non me l'ha detto? Lei ha detto anche tu Voleva tenerti al sicuro Non posso lasciare che Asav trovi quella zanna No Non possiamo Grazie Ringraziami una volta uscite a fine Hai ragione Non scordare Ganesh Oh Fortuna che... Ma è stato davvero un bel salto Ero preoccupato Su Un amico vi aspetta Non vi ha mai tradito E dire che ho provato a convincerlo Sam Dio santo Ehi Ce l'hai fatta Senti No Tutto bene Picchia come una ragazzina Davvero? Toglimi le manette e vedrai come picchia una ragazzina Che diavolo ci fa lei qui? Hai detto di trovare aiuto Sì Devo ammetterlo Tu Sei fin troppo scaltra Prima rubi il mio disco Poi mandi il tuo esperto Per farmi girare in tondo Astuto Forse in te c'è davvero del sangue indiano Certo È merito mio, ok? Ok Bene Chiudiamo la questione Va bene Va bene, va bene Va bene, va bene Allora, Nadine Ross Non mi parlare Dicevo solo che ti trovo bene Che cosa ho detto? Cos'è questa pozza? Ah, scusa Negli ultimi giorni ho avuto un po' di difficoltà a trovare sapone e acqua corrente Dio Tra tutte le persone che avresti potuto portare Mi ha salvato il culo più di una volta, sai? Sì, ma forse non ricordi che ha anche cercato di uccidere Nathan e me molte, molte più volte E a dirla tutta Voi due avete fatto lo stesso con lei Sì, ma non è questo il punto Il punto è che non appena noi le volteremo le spalle Lei ci ficherà dentro un pugnale Ehi, ti sento benissimo Lo so Io mi fido Sai cosa? Va bene Forse sono solo un tantinello seccato perché ce ne stiamo andando a mani vuote Ma immagino... Immagino che tu sappia cosa si trova Oh mio... Di gran classe, grazie Non è il momento, bambini Se vuoi ne ho ancora Ci vediamo dopo scuola Su, sbrigati Oh, oh, oh Non promette bene I re ci sottopongono a un'ultima prova Mi sembra tu non abbia più bisogno di noi Quindi ce ne... No, al contrario Tu conosci la storia Vedi? Shiva donò a Parashurama la grande ascia Che colpì Ganesh in pieno volto E mise il figlio di Shiva Uno degli dèi più potenti In ginocchio L'ennesima vittima di guerra Non parla... È vero, Clo Finirà comunque per uc... Ha ragione Ma se ti rifiuti Ti vedrai morire Molto lentamente D'accordo Clo no Stai bene? Sì Non me l'aspettavo Porca vacca Quella ragazza ha le palle Io... Io non capisco È un modo di dire È perché hai interpretato male la storia Ganesh si fece colpire dall'ascia Di sua volontà Ma non ha senso Non per uno stronzo egoista, no Vedi? Ganesh avrebbe potuto sconfiggere Parashurama Tranquillamente Ma la sua vittoria Avrebbe fatto sembrare l'ascia di Shiva più... Debole Senza poteri Ganesh si sacrificò per l'onore del padre Visto È chiaro anche a lei E non ha una goccia di sangue indiano No C'è no È magnifica Non è vero? Non hai niente da dire ora? Se vuoi ti dico dove puoi ficcartela Bene, miei cari Preferirei uccidervi con le mie mani Ma non voglio irritare gli dèi Voi mi avete consegnato un grande tesoro Ok, quindi che pensi di fare? Vuoi allagare questa sala? Mi mancherai Andiamo Non ti sembra di esagerare un po'? Nulla si distrugge davvero Si purifica e rinasce Perché non ci spari e basta? Giusto Mentre l'acqua vi riempirà i polmoni Riflettete sulle scelte che vi hanno portato qui Forse nelle prossime vite Avrete miglior fortuna Stronzo Non so voi ragazze Ma io ho la testa bella piena di un sacco di rimpianti Non dirlo a me Io non vedevo l'ora di spaccarti il culo un'altra volta E senti, neanche io sono proprio entusiasta All'idea di affogare accanto a te Potete darci un taglio? Sto cercando di concentrarmi Ma che fai? Ti faccio vedere che ho studiato Ah ah, si Ce l'ho Aspetta Torale mio Arrivo Prima le signore Ah, non so Potresti darti la cazza rimossa Poi 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 Grazie a tutti. Tutto a posto. Umidità a parte. Sto alla grande. Giuro, basta sigaretta. Ci avresti? Spero di no. Come fa Asab ad avere un elicottero? Forse è dei compratori. Che intendi? Ho sentito che Asab ha un incontro. Con dei trafficanti d'armia al depositore e i treni. Venderà la zanna. Altro che proteggerà la sua cultura. Aspetta un secondo. Ascolta. Prima... Grazie per... Cortesia professionale. Certo. Quindi pace fatta? No. Ecco, lo sapevo. Se corriamo, le intercettiamo prima che chiudano l'affare. Ah! Abbiamo un passaggio. Che belli. Laggiù. Ci sono dei binari. Mi fermo qui. Asab avrà sentinelle ovunque. Meglio essere prudenti. Già, già, già. Ed è allora che perdiamo la zanna. Se vuoi puoi aspettarci qui. Va bene, va bene, va bene. Meno parlare, più camminare. Ma dove siamo? Ti accendi? Certo. Va bene, dai. Sono solo una manciata. Per me possiamo... Aspetta. A quella Zappa piace proprio fare le cose in grande. Sarà un bello spettacolo. Figlio di puttana. La shoreline. Che cavolo ci fanno qui? Ce ne eravamo liberati. Era per dire. Ehi. Tutto bene? Io, a posto. Perché mi serve tu sia calma. Sono calma. Allora, signore, vi spiego che faremo. Io penso a quello sulla destra. Voi due avanzate. Merdo! Tra gli uomini di Asab e la shoreline ci saranno almeno 20 soldati. Aspetta. Che c'è in quella casa? Manizioni, armi forse. Forse. Io pensavo che la shoreline non commerciasse armi. Loro non lo facevano. Lascia stare la cassa. Dov'è la zanna? Beh, là c'è Asab. Orca. Chi? Il mio ex braccio destro. Mi ricordo di lui. Sì, eccolo lì. Orgoglioso del suo mallet. Vero? Capito. Ok, lo scambio è concluso. Il tuo amico Orca ha la zanna. Togliamogli quel peso. Ehi, un attimo. Tutto senza un piano. Ve l'ho detto, ci saranno una ventina di soldati. Rilassati. Vivrai più a lungo. Sei il mio orgoglio. Mi sono perso. Ci siamo! Pronta! 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 Non so che manca! Cazzo! Prendi la testa! Attenza! Fermo! Madame? Eh, ti vedi in forma. Che diavolo hai fatto alla mia compagnia? L'ho portata in attivo, prima di tutto. Mi sa che era una domanda retorica. Avrei dovuto spararti su quell'isola Sperduta. Ma magari. Ci avresti risparmiato lo spettacolo di vederti scappare via. Ehi, perché non risolvete le vostre bag game privato? La zanna, grazie. Voi due. Insieme. Vuoi una memoria di merda oppure sei più disperata di quanto pensassi? Che cazzo, ce l'hanno tutti con me oggi. Non sono io quella ridotta a vendere armi a dei ribelli male assortiti. Già, ecco, al solito, come al solito, sei sempre stata così limitata. Pensi davvero che avrei ceduto questa roba in cambio di munizioni? Me ne frega niente. Dammi la zanna! Che peccato. Ti perderai i fuochi d'artificio. Non farmelo ripetere. Come vuoi. Tieni. Pistola! Bel colpo. Grazie. Certo, non proprio precisa. Levati di dosso. Sì, certo. Ehi. Ehi. Ti spiace, se le do un'occhiata. Ehi, terza è anche mia. Dividerai la parte con clone. Ok. So che sei nuova dell'ambiente, ma non è così che fosse... Considera l'unonere di servizio. Dammi bene a sentire. È una bomba. Cosa? Oddio. Asaf ha scambiato la zanna con una bomba. Fuochi d'artificio. Ah, questa è bella grossa. Già. Quei binari attraversano la città... ...e il mercato. Allertiamo le autorità nella città più vicina. Sarà troppo tardi. Se esplode farà migliaia di vittime. E... È veramente una tragedia. Ma ora abbiamo quello che cercavamo. Io... Cosa? Non vorrai inseguire davvero quel treno? Ok, bene. Almeno hai un piano. Mi sembra un dettaglio alquanto superfluo per la nostra squadra. E tu non fai niente per fermarti? No, io... Per me, in fondo, un po' ha ragione. Merda, non lo so, ok? Questa non è la nostra guerra. E l'hai detto anche tu. Se anche raggiungi il treno, che cosa fai? Disinnescare la bomba è impossibile. È vero. Bene. Bene, quindi chiamiamo le autorità e... Non è la nostra guerra. È la mia. Se quella bomba esplode, in città sarà la guerra civile, non posso ignorarlo. Sono stanca di fuggire. Morirai. Morirai. L'ho messo in conto. Ehi! Tieni da parte la mia fetta, ok? Non si sa mai, no? Cosa? Non puoi abbandonarmi con lei. Fuori. No. Sto io davanti. Eh. Ok. Io starò dietro. Beh. Vai! Faccio aiuto! Ok! Sto cazzo! Grazie! Dal vivo è molto più grande. Beh, è una bomba di uso militare. Vieni! Aiutami! Oddio! Pesante! Sai disinnescarla? Se ci provassi esploderebbe. Allora piano B. Alla locomotiva! Ci siamo! Oddio! Oh! Ehi! Cazzo il ponte! Merda! Merda! Oddio! Perché ci hai messo tanto? Dovevo prendere un treno Sapete? Io mi sono sempre considerato un uomo molto paziente Ma voi due siete delle bastarde di prima categoria Ci insulta? Volete rischiare la vita? Ma per cosa? Una città di bifolchi? Cazzo, sei insopportabile Nelle mie vene scorre il sangue degli antichi sovrani Questa è la mia terra! Cosa avreste da guadagnare qui? Oh, conta più quello che hai da perdere tu La bomba? Basterà comprarne un'altra Brucerò la tua città, ladra La tua gente ti imporrerà a dissambarla Nadine! Pecore braveranno Dovrete uccidermi mille volte per sperare di fermarmi Oh merda! Vorrei ricordarti il ponte! Stacci, te combatti! Facciamola finita! Vai! Cagna maledetta! Avete rovinato tutto Tutto quanto! La mia impurazione sarebbe stata magnifica Perché non morite una volta per tutti? Qui abbiamo finito Credete d'haver vinto? Ne verranno altri E come il giovane re non avete niente in mano Avevi proprio ragione Il progresso richiede dei sacrifici Preser, dobbiamo andare Piccola stronza arrogante Via! Forza! 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 Forza è la fine! Ora! No! No! Guarda, troia! Potresti iniziare ad arrampicarti, ti va? Dio santo! Sam! Dai, salite, vi aiuto! Oh mio Dio! Basta carboidrati, cara! Lo dicono tutti! Dai, dai, dai! Oddio! Grazie! Oh mio Dio! Come diavolo avete fatto a uscirne vive? A dire il vero non me lo spiego neanche io. Ehm... Asav? Caduto col treno. Ah beh, cos'è che capitano agli stronzi. Guardate che roba! Wow! Ciao! Ci siamo date da fare! E come? Quindi... Qual è il futuro di Nadine Ross? La shoreline? Il traffico d'armi? Basta con la shoreline. Davvero? Davvero? A dirla tutta pensavo di dare un'altra chance a Racket dei tesori perduti. Conosci idioti egoisti a cui servirebbe una socia? Senti... Non tu. Ok. Mi spiace, ma lavoro solo con i professionisti. Già. Dov'è la zanna? Ce l'ha... Orco cazzo. Cosa? Stavo solo scherzando, eccola qua. Le vostre facce... Ah, io! Ok. Diavolo. Era l'ultima sigaretta. Cavolo, è splendida. Ja. Quanto... Pensate ci fronterà questa roba? Ma... Il Ministero della Cultura ci offrirà una... Generosa... Pericompensa. Giusto? Socia? Vomito? Vi fate pisciare sotto da ridere. Il Ministero della Cultura. Oh merda, siete seri? Ci sono... Collezionista privato. Ascoltatemi un secondo, io capisco il ribadire la nostra superiorità morale. È una gran cosa e sono totalmente d'accordo. Ma almeno potremmo... Non rovinare il momento. Fai l'og Noo! Fai l'og hike! Che ci sono teamioni? Ilburgo c'è? la questione in sempre più. Poi le dà ire